Ormai Natale è alle porte, mancano pochi giorni e qui al mio fianco c'è un bel Babbo Natale con il suo aiutante, un elfo, Babbo Natale, ma questi bambini di oggi cosa vogliono sotto l'albero, quali regali vogliono? Innanzitutto ciao a tutti quanti da Babbo Natale, gentilmente offerto dalla Proloco di Saronno e dal gruppo amici del Carnevale Saronnese, ma per rispondere alla tua domanda sotto questo periodo di feste sai di questi tempi si chiedono tanti regali tecnologici soprattutto giocattoli e quant'altro, alla fine invece mi piacerebbe ricordare pure perché siamo in una lontana epoca nel 2013, mi piacerebbe ricordare a tutti quanti che il Natale alla fine non è solamente i regali, lo scambio, quello è semplicemente un gesto, un gesto per ricordare che il Natale è scambio, il Natale è uno scambio di volersi bene, uno scambio di doni per potersi comunque aiutare l'uno con l'altro, soprattutto in questi ultimi periodi che sinceramente non sono dei migliori. E tu Elfo che sei un po' l'aiutante di Babbo Natale, è difficile stare dietro a questo uomo che ti chiederà di andare a comprare tanti regali, ti chiederà di andare a fare tante corse, di comprare tanti pacchi, come te la stai cavando in questi giorni? Ma le cose da fare sono tante, i regali da procurare sono tanti, però la magia del Natale è una cosa unica ed è sempre bello stare al fianco di questo grande uomo che rende felici tanti tanti bambini. Ma pensate di riuscire a accontentare tutti entro la mezzanotte di Natale oppure qualcuno dovrete portare il regalo il giorno successivo? Ma noi cercheremo, si cercheranno le mie renne di darsi una mossa la notte di Natale, si cercherà di accontentare tutti quanti, ma alla fine la cosa più bella sarà sicuramente ricevere il sorriso da parte dei bambini, che è quello alla fine, oltre tutti i biscotti, i dolci, i cioccolatini che mi mangio per questo pancione, sono quelli alla fine che mi riescono a nutrire per poter veramente andare avanti, il sorriso dei bimbi e alla fine anche delle loro famiglie. Grazie, buon lavoro Babbo Natale, buon lavoro Elfo e veloce a comprare regali perché si avvicina il Natale! Tanti auguri di Buon Natale! Auguri!